Mi stai tradendo un po' qualcun'altro? Guarda, ma guarda che plò il gatto! E' proprio plò plò! E' nuvata! Ok, che mi fa il salvato, ricominci sempre a dare rifugio. Vedete se c'è proprio... Aaaaah, oh mio, che carino! Ok, 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 quindi discorriamo un po' con la nostra nuova compagna. Non sono esperta di tecnologie, Vendeley, ma credo di poterti potenziare in battaglia. Dei vantaggi? Puoi spiegarti meglio? Ti ho preparato un negozio. Qui puoi imparare nuovi attacchi. Comprali! Uuuuh, assolutamente! Puoi imparare nuovi attacchi speciali. Beh, che cazzo cambia? Ogni attacco richiede una certa quantità di barra riverbero. Ah, ok, 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 ok. E poi gli attacchi speciali devono essere equipaggiati. Non puoi usarli tutti così. Ok. Sì, 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 subito, 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 subito. Tutto questo solo con qualche congegno. Non sottovalutarmi, so fare più di quanto credi. Ok, vediamo cosa hai da offrire. Sì, 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 subito, 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 subito. Allora, oggetti più che altro cosa sono? Ah, ok, ok, ok. La ricarica groove? No. Assalto overdrive. Uuuuh, che cafonata! però non possiamo non ancora ma che bella che figa allora bella questa ad aria spazza tutto resti e mentre siamo in aria non è non mi dispiacerebbe però per ora chai mi sa che eventualmente potremmo cambiare pc mi sa che eventualmente potremmo cambiare pc andiamo quindi no fan sono sono le sfide vabbè non farò non mi sbatterò assolutamente per farle in maniera forzata alla fine alla fine si tratta di tutta roba che puoi fare over time ok ok di solito non mi piacciono i gatti ma lei si amata fa cavolo in cosa mi sono ficcato almeno avrò una bella storia da raccontare tra cinque anni perché tra cinque e tra cinque è andato a colpo sicuro ma da un recca ora ci struma entriamo nel tuo computer rubiamo il file su spettra e usciamo ok ok non stavo ascoltando ma sembra facile ottimo mi sincronizzerò con te tramite 808 magari salta fuori qualche nuovo trucchetto cosa tu non vieni in una missione così pericolosa non sono stupida lascio fare a te ok un attimo quindi vuoi dire ecco mi vedi con chi stai parlando dai raggiungi l'ufficio di recca guarda è lassù è parecchio in alto dovrai attraversare la produzione ma ti farò da guida cerca di non farti notare caruccio caruccio c'era una cosa che volevo dire ah sì sì prima mi è capitato davvero qua si schiva con la rb è capitato di vedere gli stream attivi su twitch diciamo mi è stato fatto vedere uno di league of legends dato che era molto molto in oh io l'ho già dato che era molto molto in diciamo in esposizione porca troia tipo centomila persone tutte assieme a guardare uno stream simbolo mai visto una cosa del genere era stata qualche partita tipo ufficiale la lista delle combo quindi ora ci si è tornato cioè ci si è attivato questo qui bella c'era un'altra combo che avevamo preso invece pedaliera bella 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 come si chiama l'ex amministratrice della vendeley roxanne vendeley davvero ha costruito l'azienda da zero studia un po non c'è bisogno di urlare non sta urlando riconosci i suoi meriti mi sembra ci sia un leggero conflitto di opinione è la figlia sicuro uguale palese palese ok niente di qui ti prova aia ma ci sia sdrumana aia aia Grazie a tutti. Yo, let's go. Dai, è back. Eh, peccato. Finché non scopre... Ma i personaggi sono tutti così... ...colorati, ecco, vibranti. No, povero. Buono. Figata se mini-challenge per aprire l'interruttore. Mi piace assai, mi piace assai. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ciao! Ah ok, insomma ci possiamo fare, scommetto sarà la B, no, LB. Ho ho ho, fantastico! Ci dobbiamo rifare per il combattimento becero che abbiamo. No! Attenzione, sembra che dovremmo cercare un certo combattente musicale intruso. Si saranno sbagliati a scrivere. Fanne! No! No! Quanto pare no! 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 Ok, l'abbiamo battuto. Ciao sei proprio un fuckboy Oh le pagine ci sblocca una nuova roba quindi è anche nel nostro interesse ma quindi ora abbiamo dei pivi Cos'è che ci ha sblocato questa cosa no mi dispiace Mi dispiace per i robottini volevo solo un po' di circolti e vinta possibilmente No chiaramente no non si può Nooo Ah veri Non mi potrei mettere sui corsi e andare avanti Possibile mi sembra sia E non vorrei che questo è dove andare avanti Vorrei esplorare le varie vie Oh bello I fridge Ma la battuta voleva essere tipo i fridge, i girl, i boy Wow che bello starebbe benissimo appeso nel rifugio Ma come fai ad appenderlo nel rifugio? E' un caffito Oh zilla si va avanti allora torniamo un attimo indietro Oh zilla si va per esempio Da Ressa in forma diretta Eh no poveri Ah ecco abbiamo aperto questa porta perfetto Un piano ben riuscito insomma Andiamo avanti Oh anche questi sono ricchi Sotto di Kain Oh Oh Abbiamo sfondato la statua di Kain Suppongo non sia contento Ok quindi arena di combattimento Ah Gata in arrivo Andiamo Oh 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 Boom Sub Ok Mi chiedo a quanti siamo non mi ricordo Oh Mi sono infiltrata in quei terminali Oh nice Posso mandarti dei potenziamenti da qui Perfetto Grazie 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 Assalto Overdrive Ah sì sì Quello Bella questa Guardate Di vero Insufficiente Ah non possiamo Non potremmo proprio farlo In quel caso Questo è caruccia Questo è molto caruccia A questo punto Perché no Oh Oh Tanta Taglia Allora Allora Abbiamo anche la presa magnetica Combo Questo questo E questo qua Allora, fai per me Questo Spectrum Che roba è Spectra L'informatore mi ha inviato codici che fanno pensare a un'IA Sembra nascosta in tutte le parti robotiche del progetto Armstrong E come mai ti preoccupa così tanto? La mia fonte ha detto che la Vendley non ha mai tenuto un progetto così nascosto Questa storia mi puzza Cosa? Ti stai basando su un sospetto letto su internet Mi fido delle mie fonti Così sembri ancora più sospetta della Vendley Sai cosa? Non mi interessa In ogni caso io me ne vado Bruh, chai Non fare Non fare il force spoken E quindi ho insegnato io a Ricka tutto ciò che sa sull'altro Eh, a maravata Tu che ne sai? Punisci solo i pavimenti Ehi, sto lavorando Altre bugie Ahahahahha 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 Che shit Che shit Che shit Oh, sembra divertente Ah ok i i i i i i i i i Autore dei sovrapposti Power come! Dobbiamo andare un po' safe Dai Suck Mmm Peccato Dai Altro combattimento dai eh 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 Va bene No a verso Letta � Klein В Att hive La E' proprio bello con il sistema di combattimento. Ti mette un ritmo, effettivamente, da quello che potrebbe essere un semplice per dire Devil May Cry, che comunque fa un gameplay della Madonna. Non ci posso proprio passare. Mi chiedo se quindi potremmo ritornare nei livelli vecchi. Nonnismo su Corsica. Anche questo. 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 Ok quindi ora fauna no i biggie Stronzo E' andata meglio stavolta Una mini stile abbiamo fatta L'hai offesa mi dispiace che la sei un coglione Un attimo c'hai vedi la porta potreste riuscire a oltrepassare la sicurezza ma è una strada difficile molte scale Eh beh Mi piace il pericolo è più divertente Se lo dici tu Nuova meccanica Mi sa Mi sa di se Oh Ops Oh si devono saltare anche le cose Oh Eh che figata E' uscita dalla E' uscita dalla vendetta Che caruccia sarà là È ruota Capriola Vabbè All'ufficio di Recca E' bello veloce quindi il gioco È già da ricca Un altro Il motivetto calmo prima che Cosa sono queste barriere elettriche Ma dai Sapevo che sarebbe tornato utile Sei pronto c'hai? Pronto per cosa? Oh Dov'è Dov'è sfruttato? È solo uno spostamento temporaneo È un po' complicato È una funzione nascosta di 8-0 È porco giuta È sgravo Un momento Non mi pareva che avessi bisogno di me Mi serve aiuto Oh ok Che figo Quindi una funzione di Help Non credo tu possa fare quel salto Ma vedi quell'interruttore? Sì Fammi indovinare Già Chiamami E posso attivarlo io per te Vabbè ci arriviamo Grazie Sembri il tutorial di un video La friccia Grazie che beve se me lo dì che si costruisca ah giustamente battaglia che beve se me Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, quindi giustamente le può sparare a qui. Ok, no, qui si va avanti. Ci possiamo pensare più tardi ovviamente, ci sarà il backtracking. So, proprio perché non c'è su messa una mappa mi sembra importante. Bruh. Bruh. Ecco, è... Peppermint. Eh, è molto utile. Puoi trascinare questa Peppermint in battaglia per aiutarti con le combo o per ricettisco anche che questa strana forma di vita riesci a mantenere... Mi prenditi cura di te mi dai una bella... Bevanda. No, non me la do. Come il frigo con le bevande che non mi dà le bevande. D'accordo, è tutto saffare. Eccolo 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 Eccolo